Dopo gli abiti che hanno per così dire ospitato le immagini dei templi di Agrigento, adesso la Magica Valle potrebbe ospitare gli abiti di Dolce Gabbana. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, è intervenuto nell'aspro dibattito scoppiato nei giorni scorsi tra il comune di Milano che aveva negato ai due stilisti degli spazi pubblici per realizzare eventi di moda e i due stilisti tra cui il siciliano Domenico Dolce, dichiarandosi disponibili ad ospitare una sfilata griffata a Dolce Gabbana nella splendida cornice della Valle dei Templi. Siamo pronti, afferma Marco Zambuto, ad organizzare le sfilate della griff tra le rovine degli antichi templi agrigentini. Non sollevo nessuna polemica con il sindaco Pisapia ma ritengo che questo sia il momento meno idoneo per criticare ed emarginare il mondo produttivo dell'Italia che funziona. Al contrario, aggiunge, credo che rientri tra le responsabilità di noi amministratori il dovere di esaltare fa crescere le eccellenze che il nostro paese è in grado di offrire. Per questo un grande evento di DNG all'ombra degli antichi templi di Agrigento sarebbe una cartolina per l'immagine internazionale dell'Italia. A scatenare la protesta dei due stilisti che per tre giorni durante il weekend hanno tenuto abbassate le serrande della boutique di Milano le dichiarazioni dell'assessore milanese al commercio Franco D'Alfonso che ha affermato di non voler concedere spazi pubblici di pregio alla coppia di stilisti perché condannati per evasione fiscale. Se Milano non vuole concedere spazi pubblici ai due geni del Made in Italy, continua Zambuto, per loro sono apertissime le porte di Agrigento e della Valle dei Templi. Polemizzare con le aziende significa indebolirle, colpire la loro immagine internazionale e mettere a rischio posti di lavoro spianando la strada alla concorrenza straniera. In un momento, conclude il sindaco di Agrigento, così delicato per gli equilibri del sistema Italia, non ci possiamo permettere passi falsi.